Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro, «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero, «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse, «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo, «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa dodici uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per tre mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il Regno di Dio.